Notizie, approfondimenti e riflessioni con giornalisti, studiosi e scrittori. Palazzo Ducale e l'Aulamagna dell'Università di Urbino Carlo Bo si preparano ad accogliere l'undicesimo festival del giornalismo culturale dal 5 all'8 ottobre. Nella città patrimonio dell'UNESCO si terrà la manifestazione con al centro il tema Leggere per il futuro del giornalismo nell'era degli schermi. Un'edizione che spiegherà nel dettaglio i grandi cambiamenti avvenuti nel mondo della lettura, un ribaltamento totale che oggi ci porta a fruire dei contenuti per mezzo degli schermi tra smartphone, tablet, pc e smart tv. Sempre più spesso, infatti, la formazione e l'informazione passano dalle immagini. Grande attenzione verrà rivolta anche al mondo dei giovani lettori che sono portati a leggere i libri con le orecchie nella modalità podcast. Il festival è organizzato dall'Istituto per la Formazione al Giornalismo e dall'Università di Urbino in collaborazione con la Galleria Nazionale delle Marche e con il patrocinio della Regione. Tutti gli appuntamenti saranno ad ingresso gratuito e libero fino ad esaurimento dei posti. Lella, quali saranno i temi e gli interrogativi di questa nuova edizione del festival? Uno degli interrogativi è quando leggiamo, come leggiamo e anche se leggiamo. Lo chiediamo, presentiamo una ricerca che abbiamo chiesto ai ragazzi della generazione Z, 14-19 anni, come si comportano loro nei confronti della lettura, ma il festival lo chiede anche ai giornalisti generalisti e ai giornalisti culturali. In particolare ci interessa anche capire come funziona il nostro cervello quando legge sulla carta o sugli schermi. E per questo abbiamo una neuroscienziata, la Matteoli, che ci racconterà proprio il funzionamento del cervello nel momento in cui leggiamo. Come diceva lei, appunto, tanti gli appuntamenti in programma, ma si parte il 5 con un'anteprima? Il 5 con un'anteprima saremo nel cinema del sé Nuova Luce di Urbino, dove Emanuele Cohen, giornalista dell'Espresso, presenterà il suo nuovo romanzo che parte dalla vita di Elvira Notari, una regista degli anni 20, unica donna, e che ha registrato, ha girato 60 film, di questi 60 film ne restano soltanto 3. Sono della Cineteca di Bologna che gentilmente, con una collaborazione con noi, ci omaggia la possibilità di vedere questo film muto e lo vedremo insieme a chi ha studiato quel periodo e che l'ha raccontato in un romanzo, Emanuele Cohen, ma ci sarà anche Anna Fiaccarini, della Cineteca di Bologna, a discutere con noi. Quali saranno poi gli altri ospiti attesi al festival? Beh, naturalmente Dandini, Serena Dandini, ci sarà un reading, ancora una volta la lettura, di alcuni brani del suo ultimo libro, Cronache dal Paradiso, ma soprattutto la Dandini sarà intervistata da Giorgio Zanchini e tra letture e confronti sarà una serata molto bella, il 6 alle ore 21 nella Sala del Trono. Poi il giorno dopo, alle 10 di mattina, ci sarà l'Alexio Magistralis di Rosella Postorino, che anche lei leggerà un racconto che riguarda anche questa volta i ragazzi, e poi farà un dibattito, intervista con Giorgio Zanchini. Ma ci saranno molte altre cose, Piero Dorfres con Brucchi e Emanuele Parsi, la direttrice Pini del Resto Cardellino, QN, ma molti altri sono Paolo Di Paolo. Faccio fatica a elencarli tutti, ma nel festivalgiornismoculturale.it potete vedere veramente tutti gli eventi che ci sono e naturalmente poter avere tutti gli aggiornamenti. Grazie. 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 Grazie.